Da consigliere a consigliere, hai votato per la decarbonizzazione, hai firmato per la decarbonizzazione, non vuole più la chiusura, non vuole la chiusura, non vuole, no non intervista, è un dialogo, perché rifiuti il dialogo, non da giornalista, da consigliere, rispondi, cosa offende, ora non vuole più l'ilva chiusa, parla di decarbonizzazione, di nuovo assetto tecnologico, la firma di Luca Contrario, leggetela, non vuole più la chiusura, non più chiusura, idrogeno, produzione ad idrogeno, firmato qui, Luca Contrario, leggi, 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 leggi tu, leggi tu, con nessun collage, amico, amico, idrogeno, sei cieco? Idrogeno, idrogeno, non sai neanche leggere, idrogeno, la tua posizione qual è? È chiarissima, qual è? Con il sindaco, nessuna chiusura, nessuna chiusura, è come l'arretramento, come funziona, con le rotelle, si mettono, no, sì, 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 ti rispondo solo a questa, poi vado via, benissimo, cosa si intende per arretramento? Le rotelle sotto, però se mi devi far parlare, cosa si intende per arretramento? L'arretramento di aree e zone portuali, soprattutto, si riferisce al fatto che vanno restituite e recuperate dalla città, aree portuali che oggi sono occupate con l'ILVA, anche nell'ottica di, no, aspetta, no, nell'ottica di riprendersi aree portuali che servono per l'economia alternative e che servono per lo sviluppo. E la nuova produzione, e la nuova produzione, e la nuova produzione, come si produce diversamente, quindi l'ILVA rimane in piedi, hai rinnegato la tua storia, hai rinnegato la tua storia, mutato assetto tecnologico, modificare assetto tecnologico, ristori solo per il quartiere e tamburi, non per tutta la città. Ristori, guarda, è tua la firma o la disconosci? Sulla questione ILVA, no, no, scusa, ma è tua la firma o no? Ti chiedo, sì, perdonami, sì, sì, per questa città, per il dramma di questa città, per non fare spettacoli, no, no, rispondi, 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 non fare il teatrino davanti alle telecamere, è tua la firma, rispondi, è tua la firma, è tua la firma, rispondi, 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 Luca Contrario, rispondi, 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 ah, minaccia pure, anche minaccia, guardate, certo che lavoro, certo che lavoro, pagliaccio, cosa dici? Mi hai chiamato pagliaccio? Bene, questa è la tua firma, rispondi o non è la tua?